cammina di fronte signori a voi come un essere dei capelli di merda metti il comito così che cazzo vuoi fare nidali blind ma se chiami il cazzo escono le palle gli europei finalmente finalmente escono le palle gli europei qua c'è di broken rumble umanoid umanoid gioca il tuo victor di merda fuori meta e fai qualcosa samira europei con le palle bravi fanatic bravi fanatic questo voglio vedere va bene anche a cali va bene anche kaisa bravi bravi questo sì questo mi piace questo quello questo quello che sto vedendo è bello prenderanno un cazzo infinito astronomico astrologo non c'è un modo per descrivere il cazzo che prenderanno in questo game dal team cinese hanno iniziato a bannare saia tutti i team cosa mi hanno guardato in live hanno capito tristana di carri subottimale meglio mi risposto tra poco ragazzi anzi non male l'atterrata di farne poppy blocca tristana poppy blocca blocca raccana cioè loro hanno draftato male secondo me contro contro la poppy stanno ridendo i fanatic infatti capiscono per me li stanno disraspettando di proposito rumble ban raleona alistar può scegliere quello che vuole alistar ok si gioca ivern dopo una draft incredibile ivern che si gioca con double carry che in questo caso direte voi akali kaisa basta vedere il volto del coach avversario per capire che è perso il game mamma mia chi mette chi mette il dps akali akali non non fa danno a questi vince contro oriana inside allora c'è un problema ragazzi qualcuno mi sa dire il match up jacks pop in top quello che vedo io è un oriana che early game avrà l'ultra priorità su oriana che early game avrà priorità un botto su akali fino a livello 8 7 8 poi inside lei vincerà l'akali per carità ma quella priori game contro beh dipende adesso vediamo il punto è che poppy è turbo però che quindi in realtà non è brutta la comp di fanatic non mi piace l'ivern però ci spiccare così ci sta c'è di là abbiamo comunque champion roti jack 6 1 insieme funziona mi piace mi piace mi piace umanoed qua mi stanno mostrando qualcosa di diverso i fanatic ragazzi mi piace mi piace do anche se perdono sono contento spero che di vedere una sconfitta con dignità insomma è giusto quello che ha fatto i fanatic ragazzi però nel momento in cui è un power picchi incredibile come poppy che tra l'altro contro quella comp non è neanche bruttissima ma tipo hanno bannato l'issini fanatico sto trollando vedi hanno bannato l'issin che è int e anche il band di vai è int se devi prendere ivern vai non la anni se devi prendere sia i populi c'è non lo banni anche se l'issini in realtà contro la cari non era male è giusto ragazzi che sia così è il match up oriana early game rompe tanto il cazzo coi boss che levano un fottio ultra resistente la cui indoggiabile mezza placca giù non buono contando che è la prima web che crascia più di una insieme ma è la prima che crascia sull'autore and grabbing early plates like this is exactly what she is design to do against early alistair has been playing with fire up here razork is here just get them yeah i mean they're just gonna try to run no it's a big wave and i suppose the timing not really working out and as you mention wolf that word is going to help bin understand that it's probably a good time to back away from the lane è molto strategico qua ragazzi perché credo ci credo i blg ripeto per me sono ventimila volte più forti dei fanati ma tutti voi però ho la sensazione che i fanatic possono uscire il colpo gobbo il colpo l'apo sì l'unico problema è le priorità di corsia e il problema del motivo per cui ho chiesto il match up jax contro poppy è proprio il fatto che se jax in effetti vince contro pop lo killano lo killano con noc al first block signori fermi il miracolo il punto più alto della storia dei fanatic first block contro i blg segnatevi questa roba questo giorno isegnolo non amana non amana non amana non amana non amana non amana non ce l'ha Mamma mia, è umanoid, ti amo! Bello! Bellissimo! Bellissimo! Sub-humanoid! Per la prima volta è umanoid! Non è sub-human! Incredibile, si sta evolvendo! Cos'è che di mattina ha due zampe? Di pomeriggio ne ha tre, di quattro ne ha quattro... Di quattro ne ha quattro... E di notte ne ha quattro, signori! Umanoid! Incredibile! Aspetta di vedere l'altro scalinino! Ecco gli uomanoid! Sto giocando bene il fanatico, eh! Guardate qua, Trimby! Guardate i Trimby! W, Q dietro, Ignite e camminando in avanti... Stun! Questi di Tristana non può flashare e via! Qua Umanoid ha fatto bene ad andare in, ragazzi, perché non aveva... Non aveva mana... Non aveva mana a Yagao! Non aveva mana a Yagao! Umanoid aveva il flash, anche Yagao aveva il flash! Vedete? Di poco, eh! Di poco, per carità, ma... Con i shield di Ivern è tutto! Bravo Razork! Eh, Bina questo, ragazzi! Bina non ha mancato un CS! Bina non ha mancato un minion in Toplin! Sarà un casino, anche perché Jax è un bel pick contro stavola! Ma c'è un europeo che gioca Jax? C'è un team europeo che gioca Jax in Toplin? Uy, i fanatic fanno anche la partita! Cioè, addirittura fanno il drago! Attenzione, ragazzi, che... Mo... Trollare, trollare, ma... Pochi team al mondo vanno avanti a BLG early game, eh! Attenzione! Con questa draft, poi! Eh, se va la kill a Bina, che è già 20 kill sopra, 20 min a sopra... Tanca... Tanca Seju, poi lo ulti, li facendo... No, che fanno? Hanno paura! Eh, aspetta, non viaggia, bro! Dai! Non poteva giocare la peggio! Chi è andato a Jax? Eh, è un problema, ma ci sta, ragazzi! Sapevamo già il gap che c'è tra i Toplin e le U e i Toplin e le Giadici! Lo faccio un cazzo! Dai, dai, Akali! Non ha beccato Jax! Bellissimo! Trimby! Bello! Dai, cazzo! Vabbè, l'ha presa Aracan! Dai, Oscar in in! Bell! Figlio di Troia che sei! Cioè, lo butta su Jax! Eh, molto, molto bravi! No, vecchio! Molto, 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 molto bravo qua, ragazzi! Razork! Tremend no cap di Tacy! Molto bravo Humanoid! Bravi, bravi, bravi! Mi dà confidence, roba qua! Cioè, qui Oscar in in sta facendo partire la R! Ma che cazzo fai? Premi 2piav per bloccare i dash al massimo di Dix, Sujuani, o flasha la ulti, eh! Qua devi flasha la ulti, dai! Flashi la ulti e premi 2piav! O flashi la ulti e premi... Non puoi premere la R perché te la stoppa, dai! Guardate l'Humanoid! Guardate l'Humanoid! Bean qua non aveva recollato, ragazzi! Non ha preso la chi la metà, capito, ok? 3 men no cap di Razork! Bellissimo! Bellissimo, bellissimo! Mi spiace però Scar in in qua perché poteva aspettare, cioè se aspettava un attimo stannava Aracan col flash e poi bene la W non poteva saltare, cioè... E' veramente bello Scar in in! Questa è la mia? Come? Ah, era la Q di Iverner! Ho paura, che sono cagato in mano! Bello? Il problema è sto Jax, ragazzi, però con la draft... I BLG dovrebbero essere avanti, eh! Cioè, i BLG dovrebbero essere avanti in il game, con i matchup che hanno! Peccato che le kill dei fanatici che c'era via Alistair! Sì, è sicuramente arrivato a questo, se questo game va abbastanza lungo, ma guardatevi a questo, il Fnatic è arrivato a lavorare su questo riptardo, e è, you know, 10 e mezzo minuti in! Deve potrebbero essere avanti a prendere questo, come vedete che il BLG, sul basso della macchina, sta arrivando in là, cercando di esercire qualche pressione, ma al final del giorno... Il BLG lo scalano, è vero, ma molto lato! È vero, ma molto lato! I BLG hanno Spike Irly, Diorianna che vince su Cali, Tristana che vince su Kaisla, Jax che vince su Poppy... Poi hanno fall-off di 20 minuti, e poi rivincono! Quei 20 minuti i fanatici devono andare avanti in 5-6k, 4-5k, così da reggere il late game dei BLG! Non avete il danno, ragazzi! Oh! Cosa fa Umanoid? Ce l'hanno il danno? Bravi! Mi sa che ha trollato Binley però! Non vedo l'utilità nel dare kill a Poppy, però mi piace! Non pensavo avessero i danni Poppy Iver di buttare giù un Jax, ragazzi! Poi magari sto trollando io, eh! Non pensavo veramente avessero il DPS di buttare giù un Jax e full HP! Ragazzo! 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 Ho capito! Forse ha trollato un attimo... Bellissimo il timer di Oskarinin per evitare lo stun del Counter Strike Bot però è che qua sta tirando abbastanza dritto signor controllo con il Pryo e dice che questo è l'inizio dei piedi, voi non ricevete nessun gioco, non ricevete nessun dive anche se hanno il TP da Yagao, è stato fatto con la wave in mid, ma il TP è sotto, no big crossmap di BLG Fnatic è giocato la mappa, è meglio giocare la mappa E' molto curioso come Yagao sarà giocato l'Oriana in teamfights, perchè la forma che sta giocando la mappa è quasi giocato come Taliyah Mamma mia, lo step di 3, mamma 3 mi sembrava, sembrava Michael Jackson con lo step sulla doppia vira, guarda che roba Poi si ricorda che è un imbecille, ovviamente, si è esaltato Romanoid? Romanoid, allora, non sta giocando un brutto niente però overhaul questa giocata in generale, Trimby ha perso troppo a capire, shut down sotto il sun Ok Shut down sotto il sun Disastroso Quali sono i prossimi game? Ragazzi, salto i game 0 dei team 0-2 Penso Vabbè, Poppy può andare via quando vuole Giovedì anche Non capisco tutto sto price su Poppy, cioè tutti questi gold dati a Poppy Che fa? Ho appena fatto un complimento a Humanoid Un altro a Kills, Tristana E Torre Ma che è un nice play, Humanoid che è imbecille Ma che cazzo fa? E non capisco questo funneling di gold e di Camps e Poppy Non è un carry Sì Vabbè, ma che cazzo fa, Gali? Ma che cazzo fa, Gali? Cioè, dai Regalato il comeback, molto male Tuttavia, questi game Difficile che smatti quando sei palesemente il team inferiore Con tutto il rispetto, ragazzi, ma i fanati dovrebbero stare molto più indietro Quindi Spero non sia uno snowball a partire da ora Perché Tristana, purtroppo, si è preso un vantaggio Non indifferente Torre into shutdown Troppo non vuole la torre Vuole andare, vuole fare un passaggio Inutile Questa una mid Ressurare questa Due livelli sopra, porca, troia Uno Bin tra poco tira dritto, secondo me Per me, cioè, Poppy Tutto il rispetto, ragazzi Poppy lo tiene bene Ma non devi tenere, Jax Cioè, questo è il punto Jax, lo devi tenere Jax, lo devi mandare indietro Sono di questa opinione io Poi, se qualcuno ha un'altra opinione Se tieni un champion late game C'è qualcosa che non va Sì, ero alto prima Grandissimo game Di carry, però era open win Contra Crown 9 potrebbe giocare anche Con che DPS Non c'è Non c'è Acali non c'ha danno Ho visto molti team in difficoltà Contro le Acali Ma Contro questa draft Cosa fa Acali? Perde l'anime phase In team fight Jax non lo tira giù Sejuani non la colpirà mai Orianna ovviamente Cleara un attimo la wave inside Poi gruppa per team fightare Tristana ha troppo range Ha self-feeling È una bella draft contro Acali L'altro lato Bello Poi Umanoide Ultata via Tristana È inutile Acali È incredibile Bravissimo Skarinin Bravissimo Skarinin Non c'hanno danno i fanatic Poppy sta smarfando comunque Magari è broken Per carità Mamma mia Oscar Ti amo 3-0 per Noah Acali però è completamente Annullata dalla draft Acali ragazzi È completamente annullata La sua draft Voglio vedere come va Il mid late game Perché Acali non può mettere DPS A Jax non ci può andare lì A Sejuani non gli fa un cazzo Orianna È una cazzo di Orianna Insigne mi dico ancora ancora Bomba Che roba Oscarilin sta giocando bene In teamfight Ma rimane 40 CS indietro A un top laner Che turboscala Bene sta giocando bene Ma Bina è 50 spanne sopra Sai ragazzi Con tutto rispetto Ma Ivern ha gankato top Quante volte 3-4 Hanno messo un air al top Jax è 40 milioni sopra Con un champion lead game Con tutto rispetto Ma Cali top Con TP TP di Akai Adietro Bin lo spotta Elk spreca il salto E questo è Drago Nooo Jumanoid che fa Bravo Jumanoid c'è Ivern Bello Jumanoid qua Dai Dai Stai giocando bene Mamma mia che sfiga però I fanati qua hanno Alcuni dei fanati Che hanno smarfati Altri dei fanati Che hanno trollato Qua i fanati Che hanno turbo smarfati Dov'è l'ulti di Kaisa Dov'è l'ulti di Kaisa Adesso Dov'è l'ulti di Kaisa Prende le Noah E l'hanno tornato E l'hanno tornato Aveva l'ulti in cooldown Noah Han giocato bene qua Trimby ha giocato bene qua Anche Iumanoid Di nuovo Ora qua Trimby che lo blocca in volo Elk che flasha la Q di Iumanoid Non hanno giocato male Il problema è sempre quello Non devi Non devi Cioè non devi giocare bene Devi giocare perfetto Finito il game Se non hanno vinto Sto fight Non lo vinceranno neanche Mi dispiace che Noah non aveva l'ulti Fanati penso al miglior game Della season Questo qua Fanati è il miglior game Della season Sono contento Di come stanno giocando i fanati Skyrimine è incredibile Coppopio Peccato che non hanno brustato Rakan Vabbè Anche Iumanoid Non ha fightato male Però Mancava quel DPS in più Che la ulti di Kai'Sa ti dava Se Kai'Sa aveva l'ulti Elk e Oner Eran morti 100% Che sfiga Non avrebbero mai Tornato loro Posso dire una cosa però Non hanno giocato peggio Dei VLG fanatic Nel senso Early game I fanatic Hanno giocato molto meglio E una cosa bisogna darli ne atto Ora stanno giocando bene Il problema è che VLG Non sbagliano niente Il problema è quello ragazzi Ti ho guardato i fanati comunque Questo è quello che deve fare un team Quando è scarso Questo deve fare un team Quando è inferiore all'altro E non scarso Cioè L'Iverpeak Il pop Il coraggio Questo mi piace Questo mi piace Poi che perdono i fanatic Quando i VLG Interessa a qualcuno I VLG sono 20.000 volte più forti Dei fanatic 20.000 Però se mi perdi Così Invece di perdermi O contro gli Energy O perdere come i Cloud9 Che perdono 15-0 Contro i T1 Dai cazzo Se lo fa Adam Va bene No Adam è un figlio di troppo Perché Adam è un player amato Adam è un player amato Razork Chi è che ama Razork Ditemi una persona che ama Razork Cioè guardate Razork in faccia E diteli ti amo Cioè mi sposto Qualcuno amerebbe mai Razork Dai Nessuno ama Razork Nessuno Se vi chiedo Una play di Razork Durante lo split Nessuno sa rispondere Adam è un player Che gioca a quei campioni Lì perma ci spica Non è un player Che tira fuori qualcosa Di straordinario È un player che gioca Quella roba Perché con la roba normale Fa cagare È diverso Va non stile a maggio È alzo le mani Bella l'ultima Sublime La reazione Si vede che era il mio sub Dreamy Si vede che era il mio Sostituto Dreamy Si vede che mi faceva La panchina Bravo Dreamy Allora credo che il game In questo momento In avanti Sia one side A favore del BLG Però Mi dispiacerebbe Cioè nel senso Akali Non la vedo In teamfight Fare qualcosa Contro questa comp Quindi più avanti vai Più si sentirà Questa cosa Ed è un peccato Ed è un peccato Jax più avanti vai Più tira dritto In sideline Contro Poppy Non lo so Non ancora Ma tra pochissimo Ma Bina e Yagao Non le sembrano Ragazzi speciali Ma un po' Tutti quelli Dei BLG Sembrano speciali Oskarilin è il primo mondiale O secondo È 2003 2003 2003 è morto Ma è vecchio 2003 Cioè Fick era vinto A 16 anni Il primo mondiale Che veramente Devevo fare 2003 Ma mi devo esaltare Non puoi Non puoi Non c'è neanche Akali Akali tippa Ma è in ritardo Poi no Non ha senso Devi lasciarlo Che ti frega Eh là la combo Dove la tipa prima Dove la tipa prima Poi non puoi tipa dopo Dopo il gage Si metti troppo Ultili 6 giorni Buttata Bello Trimby Trimby Penso sia il più grande Game di Alistar Di quest'anno Da parte di un support europeo Però prenderà il cazzo Ultili pop Incredibile Mamma mia Che ho visto Mamma mia Questo Mamma mia C'ho il cazzo in mano What the fuck Allora Akali Come voleva Si mostrare Inutile Ma qua abbiamo Due miliardi Guardate Cioè Popi ulti Incredibile Combo di Trimby Fantastica Miglior combo Che ho visto Negli ultimi giorni Con Alistar Combo di Popi Incredibile TP un po' in ritardo Va bene Bloccato in volo Humanoid Elk che dovrebbe esplodere Sotto 20.000 colpi Si autopila Flash out E ancora Packing vivo Arriva Bin di lato O ogni tanto Flash Non so che cosa Non mi interessa Ma arriva Ragazzi Bin Guardate Bin Guardate Bin Straordinario Di lato Boom Four men Stan Con la Eddie Jacks E tutti A casa Se lo guardo In live Salto sulla sedia Per una roba così Sulla sedia Ragazzi Posso chiedervi una cosa Opinione onesta Noah È forte Cioè Non lo vedo mai fare roba Vedere Noah Mamma mia Bin Ah no Dammi Croc Ho i do croc Ho i do croc Ha fatto la prima metà Di Sill Senza venire chillato Non è un pregio Non morire Ragazzi Non è bello Non morire Anzi È una cosa È una cosa negativa Non morire Se una persona Non muore mai Non vuol dire Che è forte Vuol dire Che mette Mette meno DPS Di chi muore Perché vuol dire Che ha sempre Un position in safe E non si gioca così E ora Bin è più forte Vuole fare l'1v2 Bin è Turbo Confident Ormai Jackson non fermi più Preo Jet Annullato Yagao Però ragazzi Però Humanoid Non ha fatto niente Con First Blood No allora Questa draft Ha annullato Completamente il pick Da Kali Ma non è perso In draft Cioè Non è perso In draft Avevano Dovevano andare indietro I early game I fanati invece Hanno vinto Quindi hanno giocato I early game Hanno giocato molto meglio Di BLG E questo è qualcosa Da dargliene conto Mid game Potevano vincere Ma Cioè Non vedivo Ma forse Perché Poppy In effetti È Turbo Broker Forse sto sottovalutando Poppy Ed è permabannata Per un motivo Però è incredibile Che un team Come i fanatic Sia avanti Solamente perché C'ha un champion Così rotto Cioè Non può essere Questo League of Legends Vuol dire veramente Che chi ha un champion Vince il game Di default A livello alto Se c'è questo gap Per un campione Non può essere Così sbilanciato Il game Perché pigliano a Kali La reputa Era una delle migliori Risposte di Rihanna Quando vuole Non so perché Quando a zira Pannato almeno Blegi giocano veloci Blegi giocano veloci Ragazzi Torri 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 Rotation 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 Giusto così Piano piano Questa torre va giù Trimi Vuole vedere se vuole Provare un fight Lo prova su Yagao Oscarini non follow up Perché sa che è rischioso Andare su un support Adesso Siamo in late game Inganiare su un support È lusing Però che non sia 100-0 Pic E pensi che BluSide Ottana versione delle volte Vince Sbilanciato È molto sbilanciato Il gioco È rovinato In competitivo Completamente Stiamo di fronte Stiamo di fronte Stiamo di fronte Forse a un mondiale Che è semi rovinato Dal BluSide Mi dispiace un po' Spero di non vedere Una finale mondiale Finire 3-2 Con BluSide Che vince Perma Perché vorrebbe dire Che Riot Ha deciso Praticamente Il vincitore Del mondiale Che non ha senso Cioè i T1 No i T1 Non fanno neanche Top 4 Per me i T1 Failano Ti 1 failano Ve l'ho già detto Perdono in semifinale È molto difficile È molto difficile Il gioco Il gioco Puede acquistare Tanto tempo Ma se il gioco Ha teleport Non sarà mai Un 3-1 In questo Jax Puede solo Counter-Strike Zonia Rolta E poi Il gioco Il gioco Non è solo Il gioco Ma ha Tanto tempo E Tanto tempo E Come Fnatic Ode Viene Non c'è 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 Perché ti piace Un support jungle Due tank Top e bot Non ho capito Un cazzo Come Adicane devi mettere Un altro DPS Un alto Un altro Una Sivir Avrei fatto Vincere molti più Scenari Non credo Se magari avevi 1-3-1 Avevi il clear Lì ancora Ancora Ma non è Una comba 1-3-1 Quando è pop Cioè o Redside Impazzisce E smettono di bannare Cioè o il team Redside Smette di bannare la roba Così Blueside First pick Ha la roba broken In Red ce ne sono due Pensa all'unico modo Per rispondere a un Blueside Dal momento Cioè È incredibile Quanto faccia Impatto Boh vabbè Poi ripeto È anche draft Per carità Con il primo pick Power pick E tutto Ma ragazzi Cioè Ci sono campioni Ci sono campioni Il counter pick Il counter pick Sembra quasi non esistere È lo stato del game Che è una merda Non esiste che arrivi A 20 minuti Che il 90% Delle volte Sei pari Senza che Redside Ti tira dritto In counter pick Con il Blueside Che è troppo favorito In quelle situazioni Con le entrate Sogli obiettivi neutrali Non ha senso Cazzo Cos'è la Golden Load È Il vincere Tutte Le split Le messai E il mondiale I GDG Possono farlo Appena risposto Ingressi Nella Nella zona national E a quanto pare Anche In draft Perché Counter pick Non funzionano A quanto pare E se un tizio Blind a Orianna E le risposte migliori Non sono champion Che la mandano 40 milioni indietro Vuol dire che c'è Un problema Nelle corsie Se un tizio Può blind piccare Jax E Jax Non viene massacrato Di pugni Cioè Se un tizio Gioca Jax Cioè E non riesce A venire abusato C'è un problema C'è un problema Cioè Sono restati Ci sono dei campioni Che sono troppo rotti In competitivo Che non possono venire abusati E non funzionano più I counter pick Come una volta È proprio rovinato Come funziona League Solo Q Se prendi il counter pick Vai 4-0 Perché il tizio È un figlio di Troia Competitivo No Golden Shower È un'altra roba Forse è per questo Che Riot Cambia La mappa in precision Riot cambia La mappa in precision Perché devono fare Dei cambiamenti Dato che se ne stanno Andando tutti Mi sta facendo il mondiale Mi piace il mondiale Mi dispiace Per il Blue side Perché sta rovinando Il mondiale Ma deve Sai che ha l'80% Sai al 100% Verete Una l'80 Perché gli unici due team Che hanno perso con Sai Sono team inutili Che hanno giocato Contro team coreani E' un'altra roba E' un'altra roba Tremi Ho Finito Ti ti dietro Dopo che è morto Tremi Collassano Mamma mia Giovanoida Cioè cos'è sto stopwatch Cioè ditemi cos'è lo stopwatch Se Rakan la beccava Non poteva stopwatchare No? Perché veniva con un k Quindi non ha senso stopwatchare Arrivare sto creando stopwatch Vabbè non importa Non è Fin che flasha la witty di pochi E' ancora vivo Jax Zonia Guardian Angel Due item difensivi E fa 1v4 Champion che ho visto Blaine piccato addirittura Le worse Rilanciato No a 3-0 E non ha fatto niente Allora i fanatic Palesemente team inferiore Però è da applaudire Quello che hanno fatto i fanatic Grazie Questa cambieresti Per riportare i player Che hanno quittato League of Legends 2 Invece di lavorare due anni A un rework grafico di merda Di un champion O di Scarne O di quello che è Farei un gioco nuovo Perché in due anni Lo rifai League A mani basse Quindi motore grafico nuovo E poi lavori con artisti Che lavorano con motori grafici Più facili Più aggiornati E tutto E tutto E tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti